2 contro 2, io e Simo contro Fere e Nat Simo in effetti non sono che ti viene Simo, io ed Eni Allora funziona così, ognuno dovrà difendere un lama Questo qua è il nostro lama, mentre il loro è lì, ve lo faccio vedere col fucile e col mirino Esattamente là Funziona in questo modo, l'obiettivo è distruggere il lama avversario Chi distrugge per prima il lama avversario ovviamente vince Le regole però sono, avremo soltanto 3 minuti per billare intorno al lama per difenderlo Dopodiché potremo utilizzare tutte le armi del mondo Ma non potremo né curarci né utilizzare quanti materiali vorremmo Infatti ne avremo soltanto 200 E dovremo in questo modo cercare di andare a distruggere con gli avversari Non possiamo rubare loot di chi amazziamo E quando si muore si può tornare in vita e continuare Sul proprio loot Sul proprio loot Ok, perfetto Allora, avvio i 3 minuti di billing 3, 2, 1, via Allora io mi fido di Nat Perché è bravo a costruire, quindi Guarda quanto è veloce Tu evita di farti chiudere lì Bellissimo Ok Ti lascio comunque altri mattoni Se poi serviranno Non so bene che cavolo fare A livello di costruzione Perché non va? Ok Bisogna farli impazzire Così non lo capisco Anche secondo me Eh, che ne dobbiamo nascondere bene Tieni altri mattoni qua E altri, altro metallo No, non ti flipare gioco Ok Riesci a salire? Poi spacchi tutto? Sì, 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 sì Da qui Non abbiamo scelto un posto molto comodo io e te, caro Io mi sto basando sull'altezza, sinceramente Così il ferro può ammazzare tutti direttamente Le fate Allora Mi faccio la scala Poi boh, se riesco a distruggerla bene Sono paziente Ok Te la distruggo io? Ok, vai È passato un minuto Ok, ci siamo, ci siamo Ok Qua riesco a distruggerla io Ok Così a posto Tanto poi vabbè Non riesce a salirci nessuno Allora, l'unica cosa è sto albero un po' in mezzo Posso distruggerci l'albero? Sì, vero? Sì, sì, certo Dai Ok Perché la davvero, davvero in mezzo Non tutti che così li uso per tipo coprirmi Mentre la vovim in sparo No, infatti, infatti, infatti Solo questo qui di fronte Perché era davvero proprio nella visuale dritta Guarda che stanno a fare loro Tutti in metallo Io faccio una tipo, un tripro muretto qua Ok Io l'ho finito in metà lo staff Quindi non ti posso dare la mano Ok Non vorrei farlo in legno io Ma che ci vedi? Perché è troppo poco resistente Va bene, no? Vabbè, continuo in legno Vado sotto a controllare Perché abbiamo ancora un minuto, raga Ok Eh, purtroppo ci avanza solo quello Non avevo tutti i materiali a mille Non avevo tutto il mattone, tutto il ferro Quindi abbiamo finito Che fatica Che palle Ok Come sta andando? A noi? Eh, a te, certo Ma Io voglio costruire lì la base enorme Due mila di strati Sì, loro c'hanno materiali infiniti, sembra È perché io, mentre lutavamo i cinque minuti Ho preso materiali Eh, vabbè E pure io ci ho provato, ma non ce li avevo tutti, tutti, tutti Se perdiamo è solo per i materiali Ma senti Che non ne avevamo E sto facendo tutto in legno Tutte le scuse Opla 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 Almeno sono scuse valide, dai Ok Vabbè, tanto poi c'è anche da dire che non abbiamo niente L'abbiamo specificato Non abbiamo niente per distruggere facilmente le strutture Sì Come gli esplosivi, minigam Non abbiamo nulla Secondo me è una bella sfida di skill di sparare Eh sì Io a distanza faccio schifo Quindi o mi avvicino O mi avvicino Opla 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 Qua sotto sto facendo il labirinto Non ci capiranno nulla Fidati Meglio Questo Secondo me può soltanto dare problemi Cioè dovremmo anche scendere Allora, stop, 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 stop Fermatevi così No Dobbiamo ottenerci 200, giusto? Sì, esatto Buttate tutti i materiali Dovete avere soltanto 200 Aspetta che vado a prenderli allora Ne potrete prendere altri 200 Soltanto ogni volta che morite Quindi insomma dovete avere sempre un massimo di 200 Allora Per esatto, guardateli O ce li hai? No, ce li ho, ce li ho, ce li ho Sto buttando quelli che non mi servono Io li devo prendere, ok Ok, sono 250 Ah, perché faccio così? Se do un colpo di questo Mestini che me lo devo ottenere Allora, ne devo buttare altri 50 Ok, ok, ok Forse rischi di buttare le mie cose No, no Ho fatto tipo il doppio scato Ti devo far risalire Ah, giù Ok, va bene Anzi, mi sa che rimango io a difendere, lo sai? Allora, si vede bene Però è grande la loro base Cioè, davvero enorme Non so se riuscirò a beccarli Quindi probabilmente Hanno costruito Aspetta, aspetta Hanno fatto una base enormissima No Che stai combinando? Vai, sali L'avete fatta? Sì Allora, tra poco vi do il via 150 più 90 No, non ci sono minimamente Perché ti incasina? Perché tu vuoi... Vabbè, ce l'ho fatta Basta, non mi devo lamentare Ciao Ok Allora, ci siamo? Sì Pronti? Sì Voi avete cecchini? Più o meno No, ma io non ne ho Pronti? Alla fine sono rimasta così 3 2 1 Via Ti ha colpito, Steph Ti vedo Hittato pure lui Vieni Maledetto Headshot Ok Non so se è meglio Attaccare in due Opo Non lo so Ah, cavolo Sì, ma sai dov'è? È difficilissima Questa roba Ce l'hai fatta? O sei dentro? Aspetta Ti proteggo Cavolo Sono tutti dentro Sono tutti dentro Devi fare tu No, 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 no Io non li vedo No, cavolo No Ma chi c'è qui sotto? Allora c'è Steph, devo riprendermi tutto Sì, e ti devi allontanare un po' Che sta facendo di nuovo il ninja Ed è dietro un albero Vai, Simo Vai, Simo Aveveloci adesso Guarda il super Steph come si è messo Fai? No Cavolo È caduto Bella Ho venti di vita Pensate ad andare giù Simo, pensate ad andare giù Non devi ammazzare lei Lo so Ciao Steph Non mi ammazzare Ok Dimmi quando sei andato via No, c'è un momento di vita Continua a bucare Continua a bucare, Simo Oddio, il labirinto qua dentro Nati e Sì, vuoi ti faccio andare fino alla base senza sparare Ok Perché tanto so che vuoi difendere al momento Distrutto Quasi distrutto 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 lama? Sì Davvero? Sì Grande Steph, quanto vicino ci sono andato, Steph? Sai che non ho l'idea, Nat? Io non sapevo dove era il nostro lama Vieni a vedere Sono curioso Io non so dove eri E non so dove era lama Quindi ho avuto paura Però poi non so dove eri Allora, tu eri qua Sì E stavi bucando questo Aspetta, va Che io posso farlo Almeno facciamo prima Questo non riesco a modificarlo Perché è tutto incalanato Ok Ok, voglio venire a vedere Dov'è? Non ci sento rumore Ma raga, non trovo l'arma Ve lo giuro Eccolo È qua vicino perché sento rumore Eccolo Cioè, dov'è? Qui Ne mancava Io ti voglio andare un pochettino più in qua Cioè, io ho iniziato qua, no? Sì, qua Facevo un pochettino più in là Fai vedere Tipo da qui Esatto Aspetta, sto volendo vedere Forse era qua Beh, non mancava molto Era qua stesso Qua, 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 qua Davvero? Sì, sì, senti Sì, non mancava molto Ok Non mi mancava da niente molto Perché non mi dà questo modo di fai Gioco schifoso Ah, piccato Qui a destra? Sì, qua Hai fatto, eccolo Sarebbe stato un complicato Però non mancava troppo Mi mancava da distruggire tre strutture E l'avevi fatto Doll Bella, sì Vabbè, a me poi hanno attaccato in due Quindi era difficile, capite? Allora, cosa possiamo fare Al volissimo Per concludere A parte lui che fa il vigliacco Aveva lo scarl Aveva lo scarl E anche il P90 Cioè, guarda cosa tutto avevano Io ero una poveraccia Cioè, ma ti sembra? Eh, ho preso tutto alle macchinette Porca miseria Guarda perché abbiamo perso Guarda cosa avevano stessi qua Vabbè, vabbè, ciao Io avevo scettini Cioè, vabbè Se aveva pure il FAMAS Avevano perso Infatti io sto ottenendo il peggio edge sotto a fare Però avreste giocata bene Perché non riuscivo mai a puntare bene a Nat E Ferre rompeva da lì in altissima Eh, infatti era quella la... Io ho puntato Infatti c'ero vicino, dai Io ho puntato Soprattutto alle gannate in puzzo Infatti mi sono avvicinato un botto Hai fatto bene No, la tattica era buona Perché non riuscivo A stare focussato su di te Ci siamo giocati tutti bene Dai No, è schifo Stai fermo Oh, calmi Valedetto No, pensavo si chiudia E ti prego Puoi fuggire col mino, va? Cosa? Ah no Lasciarlo lì Vabbè dai Comunque Ci fermiamo Scuida con lama interessante Magari la rifacciamo Un'altra volta in futuro Però forse Potrebbe rifare È molto delicato un lama Da difendere è proprio difficile È proprio una roba davvero complicata Cioè una volta che ci sei lo rompi Capito? Una volta che ci sei lo rompi Bisogna tipo crearsi un labirinto Ci starebbe Eh, però che noi l'abbiamo fatto Però L'abbiamo dovuto fare con legno Che quindi era facile 3 minuti erano pochi 3 minuti erano pochi 3 minuti erano pochi Dimmi Qua? Se vieni qua sotto Cosa stanno studiando adesso? Fatemi capire È meglio studiarsi i piani Cioè No dai Più in là Vieni Un bel labirinto E se fa Forse una protezione Un po' più Ci sta Un po' più sicura Vabbè In ogni caso Ci vediamo così Speriamo che il video vi sia piaciuto Come sempre qua sotto Compariranno altri video Iscrivetevi al canale Campanellina E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao